ok abbiamo iniziato questa sessione per gioia ciao molto semplicemente conto da 51 ti connetti a gioia 5 4 3 2 1 dimmi come la vedi allora lei e rapido che è tipo in un 3 di ultimo una torre però nel terreno no è come se ci fosse un buco nel terreno in un bosco e nel buco se questa torre che il cui piano in cima è a pari del terreno ok ma tutto intorno c'è tutto un fosso che va fino in fondo dove alle fondamenta la torre e quant'è alta la torre ma non si vede il fondo quindi la torre a livello del terreno ma un fosso circolare intorno esatto e gioia dove gioia in mezzo e c'è una ringhiera tutto intorno e lei vede questa figura che se ne va nel sentire del bosco e vuole andare verso questa figura ma se va verso questa figura cade nel fosso e quindi non ci va ok è in campo di gabbiata intrapolata se ti dà l'autorizzazione se causa dell'immagine della torre per rappresentare una sorta di intrappolamento gabbia perché è come se il bosco fosse la sua libertà ma la sua spensieratezza e libertà di movimento e invece la torre rappresenta il posto dove si temono i prigionieri e quindi mi fa vedere questa cosa qua va bene vibrazione di gioia 928 milioni milioni consapevolezza 134 sp 5149 vite precedenti 2.893 cervello sì sì c'è bello no chiedevo non mi hai sentito 9.3 ok bassa 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 vibrazione frequenza vabbè psp e perfette non capita quasi mai all'inizio ma non è neanche così determinante diciamo ahimè cioè è la condizione ideale ma cambia di giorno in giorno quindi secondo che uno si alzi con una bella canzone sentimentale nell'aria e quindi tanto ps e semplificarla proprio terra terra bene vediamo subito le entità quelle che gioia ha chiesto di togliere che non tornino mai più allora ce ne sono tre eteri che uno rettile altro falconiformi che non sono niente di così fondamentale e poi c'è allora in questo momento c'è felinoide tipo gatto però nella sua vita questa interferenza è cambiata come provo a spiegare ho visto già prima mentre raccontava proprio no vedevo questa interferenza poi oggi succedeva un'altra cosa ce n'era un'altra e così via no quindi diciamo per fare la stessa cosa su gioia però ci sono stati diverse interferenze negli anni ecco è come se agendo ne so adesso la c'è il felinoide ok agisce 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 finché gioia non riesce a imparare l'esperienza diciamo fa un grosso evento prova a propinare un grosso evento e ancora gioia rimane nella vibrazione bassa di questo evento non riesce a staccarsi autonomamente da questa vibrazione bassa e dall'interferenza ok alzando le vibrazioni quindi è come se l'entità pensino che così hanno fallito tra virgolette nel senso è la psd gioia che prova diverse entità per farle degli eventi abbastanza importanti per fare alzare la sua consapevolezza ok quindi è come se poi facesse il contratto con un'entità diversa per provare in un'altra maniera però sempre rispetto alla stessa argomento ci sono entità mentali sì ci sono tre molto chiare c'è n'è una di livello 6 ma di livello 4 1 di livello 2 allora quella di livello 6 è collegata a un'entità mentale collettiva che quella dell'abbandono direi nello specifico c'è un entità mentale collettiva nell'abbandono del padre della figura maschile come se ce ne fossero tre c'è una in generale abbandono in generale poi c'è l'abbandono da parte della mamma e l'abbandono da parte del papà ecco la figura maschile femminile lei è collegata a quella maschile poi c'è un entità di livello 4 che è collegata alla all'entità mentale collettiva anche questo vittimismo cioè io non riesco a avere cose positive ok me va tutto male adesso li vediamo sì sì e poi la seconda è la solita dell'autostima della bassa autostima che ciò mi aiuta a tenere queste vibrazioni basse ok impianti ci sono allora ci sono due impianti mentali uno per l'entità di livello 6 una per l'entità di livello 4 la collegano all'entità mentale collettive e in più l'entità di livello 6 ci sono due dl che sono collegate al cellinoide va bene la base autostima quindi l'abbiamo vista o di il lavoro al web che non dà risultati e i polemici sono legati all'entità mentali di livello 4 quando sono arrivate queste entità mentali tutte e tre insomma la 2 da 4 da 6 e ma la 2 la 4 erano direi uno e uno da poco dopo che è nata diciamo che hanno agito dall'esterno quindi vedo proprio che lei è sempre stata considerata debole perché è nata prematuramente no quindi gli veniva proprio detto che lei non è in grado che non aveva neanche il fisico per ok quindi poco dopo proprio direi quasi subito non era fisico per avere figli fa no no fisico per fare qualsiasi cosa no quindi non era era debole anche fisicamente era da proteggere però le veniva detto ok non è che erate genitori si tutti un po in generale vedo anche gli altri membri della famiglia ok causa esoterica dell'avere due uteri allora allora fanno hanno fatto legata a legata a un esperimento è legata a un esperimento delle abduction dove proprio a livello fisico diciamo che ci sono lo fanno sulle diciamo sulle donne che hanno due uteri ok fanno questi esperimenti magari non riescono su tutte ma quelle su cui riescono sono delle abduction e provano a vedere se appunto riescono a portare avanti le gravidanze o no adesso mi è apparsa una cosa riguardo a gioia hanno provato a inseminarla con un feto non completamente umano ma non è cresciuto e invece i suoi due figli sono completamente umani quindi diciamo la sua ps in quel caso è riuscita a contrastare questa cosa con consapevolezza e quindi è riuscita a mantenere le vibrazioni alte per portare a termine le gravidanze appunto diceva che ha lottato un po no quindi vedo proprio questo continuo cercare di alzare le vibrazioni ed è riuscita in questo caso ma perché è nata con due utili chiediamo dalla sua ps le donne nascono con un utero allora è stato usato secondo dove la ps dice allora nel suo caso spesso succede ma nel suo caso l'avevo già visto prima quando lo spiegavano doveva voleva no non lei erano due ps ok proprio fino lì erano due ps e poi dopo uno ha deciso di non nascere e proprio all'inizio alle prime settimane perché però fogliato embrunale dell'utero è uno dei primi quindi proprio le prime settimane devono essere due gemelli gemelle pronto sì non ho capito che devo avere due gemelli prima dei primi figli ah no lei era una gemella a livello eterico dovevano essere due gemelle poi no esatto quindi fisicamente è iniziato a formarsi questa informazione è diventata passata di lei diciamo esatto fisicamente io non so cosa sia successo ma il utero che ha gestito la prima gravidanza è quello del che ha gestito anche la seconda no dice di no lei quindi 111 l'altra se sì ma sono sempre no capito i due pari dei due nascere in arte si inseparate a distanza di tempo anni tre anni quindi uno un utero e l'altra nell'alto ce lo spiega la ps perché questa cosa che lei ha lottato per avere questi due gravidanze e tutto da tutte e due le parti come se lei non fosse riuscì se lei non fosse riuscita quando le facevano le abduction avrebbe avuto dei problemi sull'altro utero e invece così è come se ci fosse stata un contrasto no vibrazionale alla ps l'entità e per mantenere l'utero sano lei doveva doveva portare a termine la gravidanza nell'utero quindi direi che il senso è proprio no l'organo fargli fare una un ciclo completo funzionale dell'organo di tutte e due quindi ok morte del padre abbandono ok entità mentale collettiva causa esoterica invece del divorzio traumatico sempre quell'entità quel felino e del 7 no lì era un orus non è già arrivato prima allora fino a quel momento lì c'era orus e poi è intervenuto il felino ide allora il primo evento dove hanno iniziato a fare queste interferenze è stata la morte del padre ok poi vedo vedo come se lei fosse trasferita per come se lei fosse in un posto che non era casa dove c'è stato un evento non piacevole poi il divorzio e adesso c'è l'interferenza del felino ide che riguarda la sua suo legame con il partner uguale direi anche non sentirsi a casa è legato proprio questo quindi senza l'abbandono non sapere dove sei apriamo le porte del cinema chiamoci l'ex marito i due figli l'attuale compagno marito e la sorella partiamo dalla sorella viene se perché gioia non ha consigliato alla sorella i video ma ha pensato di invitarla al cinema così anche un po di nascosto perché alla fine l'invito al cinema si può diciamo fare per i viventi ma sarebbe più bello e corretto chiedono sempre prima alle persone interessate no si è come se avesse paura di un ennesimo no ok perché la definisce consapevole la parte consapevole è che quello che fa non è perso il suo benessere ecce tutta quella parte lì può essere che anche durante gli anni della sua vita ci sono stati degli eventi dove lei è arrivata probabilmente a vedere qualcosa come posso dire ci saranno state delle immagini c'è mi viene così lei come se in alcuni momenti è arrivata sottostati altre cose certo però la cosa siamo coppia gioia ne invitiamo tizio cario per sembronio nel cinema ma siamo sempre qui per gioia e fa stupore che gioia definisca una sorella che si sottopone a sostanze che la portano a stati alterati di coscienza come una non bisognosa di vedere dei video che l'hanno portata hanno portato lei qui oggi così come definire la sorella come una piuttosto consapevole forse anche sottointeso più di lei è curioso io la trovo una cosa abbastanza curiosa no forse la più bisognosa di tutti è la sorella ma la sorella non sa neanche che esistano le più le ipnosi mentre gioia ne ha viste decine 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 sono centinaia modo migliore più semplice più con più 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 rapido per aiutarla era ma lo sai che ho conosciuto questa gente che fa bla 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 no se cause sottile che di questo approccio insolito bene allora appunto c'è allora la paura del no di un altro no e però dall'altra parte c'è la paura dell'abbandono anche da parte sua no quindi vorrebbe salvarla a tutti i costi le vorrebbe salvare tutti le vuole salvare se stessa allora si ha fatto che si liberi da questo peso quale peso è il peso della dipendenza da una figura maschile dal senso dell'abbandono quando le persone se ne vanno va bene dunque la sorella viene i figli se ci sono in prima fila il marito attuale se si non è consapevole ma viene c'è lei e quindi lui viene stessi persisci da molto dire l'ex marito se chiamiamo anche la moglie compagna dell'ex marito la media ex migliore amica di gioia che le ha soffiato il marito viene se si è già arrivata prima con l'ex marito che canalizza è perché avviene vorrei sapere cosa no si sente c'è ancora questo ha un po rimorso ma non perché è andata con l'ex marito ma per come si è comportata per la decisione sta prima e per l'atteggiamento dopo questa donna ha fatto qualcosa in termini energetici per raggiungere il suo obiettivo allora vedo che più alto più che altro le ha nascosto delle cose lei probabilmente c'è questo che lei di cui lei si sente in colpa no perché sapeva che da un certo punto di vista lei sapeva che c'è vedeva glo gioia che si sarebbe allontanata dal marito ok maria l'ha sempre nascosto diceva delle altre cose diceva però vedo anche che diceva delle cose che facevano sì che lei già vibrava basso perché in generale finora tutta la vita tendenzialmente le vibra basso perché un proprio tante emozioni negative e così manteneva le vibrazioni ancora un po più va ancora più basse diciamo un po con lo scopo di allontanarla dal marito sarebbe finita comunque cioè non è che responsabilità sua sarebbe finita comunque però è come se lei avesse accelerato una cosa che invece potrebbe poteva andare in tutt'altro modo ok sono tutti nel cinema va bene causa esoterica dell'aumento di peso allora la vista legata come se ne fosse tornata sedicenne dopo la menopausa ok e quindi con quel senso proprio fisico che ha provato con la morte del padre ok e quindi come se si fosse fatta un salvagente perché era in mezzo al mare da sola alla deriva proprio quindi lo vedo proprio collegato a tornare a quello stato la non c'entra niente però con non è l'interferenza di serinoite alla cire fisico più dell'entità di livello 4 il dolore artico a dolori articolari e muscolari fanno delle abduction e durante le abduction mandano questi impulsi e poi quei giorni lì quando alle abduction durante la giornata rimangono poi chiamate le articolazioni muscoli come se facessero sempre un circolo di informazioni energia di parte dal chiede gira così poi torna giù sull'altro piede onicofagia allontanamento dalla ps questo è sempre quasi sempre quasi sempre la veda così oppure nel caso in cui uno talmente collegato alla ps che riescono a provare a far questa cosa funziona poco ma questo vale per tutti quelli che si mangiano le unghie se quasi sempre se operazione le gengive a questa operazione delle gengive sembra di soffocare fa un episodio sblocco emozionale inizio a piangere davanti appunto al chirurgo dentista che che non crede sugli occhi insomma cosa succede allora è come se le avessero messo nei giorni prima un pensiero no legato all'intervento quindi sarà l'intervento andrà tutto bene chissà come andrà queste cose qua e hanno fatto in maniera tale che hanno provato a farlo andare male ok ma in quel caso lì anche in questo caso la ps è riuscita a fare uno sblocco vedo proprio quando fa questa cosa questa cosa la ps è come se intenta fare le sue cose no le sue esperienze poi certo punto si è come se passasse di lì si accorge delle vibrazioni basse ok e quindi agisce e alza le vibrazioni cioè in eterico io vedo proprio che si accorge dell'interferenza la prende e la manda via questo provoca la crisi di causa causa e esoterica dei due incidenti stradali allora l'ho visto già prima sia l'evento delle gengive che questi due incidenti stradali sono stati delle tentativi di bloccare gioia per arrivare qua che lei qua lo sanno che con questa sessione avrà un enorme possibilità di liberarsi di tante cose di liberarsi di quella di quella ringhiera sulla torre di poter mettere un ponte per arrivare dall'altra parte e quindi hanno provato proprio a farlo anche con skype no mattina dice ma perché i nuovi incidenti e non so un altro modo adesso di lei hanno sempre fatto cose fisiche eventi fisici eventi nella matrix ok vedo appunto fin da quando era nel utero quindi della mamma non sempre agito livello fisico diciamo che il suo la ps ha deciso di seguire questa rotaia nella vita come base ok quindi interferenze fisiche specialmente tra le 2000 e 800 e rotti dite qual è quella più importante o quelle due o tre più importanti che la sua ps vuole mostrarci per esempio anche in relazione agli altri attori della sua esistenza l'ex marito l'attuale marito i figli l'amica medium a una di queste vite allora mi fa vedere una vita dove aveva il padre che vedo che era un lavorava nelle forze dell'ordine possiamo dire così ed era diciamo anche al era al comandante della caserma lavorava e aveva anche marito con cui lei aveva molto feeling erano molto finino e questa è la vita perfetta a livello di figure maschili che è esattamente andata come dovrebbe andare tutto liscio tutto bello tutto che va tutto bene e non aveva mai fatto una vita dove invece era al contrario ok quindi dove doveva sperimentare tutto l'opposto e quindi quindi perché cambiare a questo giro per imparare esatto se per imparare perché ci vuole sempre tutto ok la dualità bisogna sempre diciamo che il gioco qua è proprio sperimentare l'attualità in tutte le sue parti quindi se sperimentiamo il bianco dobbiamo sperimentare il nero spese sperimentiamo il maschio dobbiamo sperimentare il femminile no tutti i ruoli tutti tutti i meccanismi ok ok lena come stai chiamiamo il padre e la madre disincarnati dimmi come li vedi il padre lo vedo legato alle figlie disperato che piange fin da allora perché ha disperato sente colpa per essere andato io non so perché se ne sia andata in questo momento gioia ma noi continuiamo francamente non so che cosa si è successo che sessione strana e funesta vabbè portale chiamiamo tutti i disincarnati di tutte le generazioni di gioia e tutti i morti da cinivac dall'ultima volta oggi dimmi quanti sono in un caso dell'altro vediamo 92 parenti di gioia 18.273 stanno aumentando ci più o meno se ma tutti ci sono passati un po di giorni quindi più o meno so che mi riscono di sicuro di circolazione sangue cuoricino se se soprattutto quello se chi vuole parlare madre o padre e allora il padre ha visto dopo il portato perché abbiamo aperto il portale audio ha visto proprio la luce e ha visto che ognuno è a sé quindi ha visto tutto e questo su seguirsi di eventi no in maniera più neutra e ha visto che sono le esperienze delle due figlie e quindi ha diciamo ha smesso di piangere preso atto di quello che ha fatto e vede proprio che questa esperienza lui non la vuole ripetere no il padre che muore in anticipo ecco quello che vedo è che quella sofferenza quella abbandono quella cercare quel sempre vivo vibrazioni basse negatività era la stessa del padre quindi lei era proprio collegata al padre sentiva quello anche la sorella il padre è qui è attaccato alla terra adesso no dopo il portale auro che ha visto tutto si è staccato prima era con la prima signora era collegato a loro se la madre la madre no la madre più la vedo più neutra vedo che come se avesse rivisto le sue esperienze di cui alcune era molto consapevole anche prima di morire no ha visto diciamo la conferma che molte cose le ha imparate in questa verità e quindi come se facesse un punto della sua situazione ed è quella questo punto diciamo alcune a vede che alcune esperienze le imparate ce la capite la consapevolezza te molto e altre invece come se non fosse soddisfatte dice qualche altra vita le rifarò il messaggio che vogliono lasciare qual è a lei diretto vedrai che adesso sentirà la leggerezza e la bellezza della vita la luce direi che non c'è più colpeso non c'è più quella prigione quella essere cupi che sarà molto chiaro invece fai molta attenzione a quello che interferenze proveranno a presentarti se devi imparare a essere consapevole che sono interferenze che tu puoi mandarle via perché tu hai il potere la forza dipende tutto da te ecco ok li salutiamo allora tutte e due disattivato io disattivato io vi salutiamo e rimandiamo nel portale chiuso gli altri disincarnati sono andati ok poi vedrai questo pezzo gioia che ti sei persa e poi lo vedrai comunque la parte madre padre e disincarnati li abbiamo fatti tutti ok veniamo alla dipendenza materiale dal maschile appunto questo compagno padre se direi che è quello che ha cercato e diciamo che con lui continua c'è conti non è finita la storia perché lui cercava una figlia non inconsciamente l'accudire quindi con i loro ruoli come posso dire la parola giusta non mi viene la parola c'è ruoli sbagliati direi come si può dire in altro modo voli tossici esatto hanno creato questo legame quello che io vedo è che si stimano molto si vogliono molto bene ma lei potrebbe tranquillamente sganciarsi e avere finalmente la possibilità di vivere l'amore ok in maniera vedo che lei può sganciarsi da lui maniera molto pacifiche quindi comunque diciamo rimanere quasi diciamo sganciarsi dalla parte amorevole amorosa no di coppia ma questa volersi bene proprio come padre figlia può rimanere quindi comunque un punto di riferimento ma vivendosi la sua vita amorosa da un'altra parte di da un'altra parte proprio una convivenza da un'altra parte quindi rimane l'affetto l'amicizia compagno papà basta sì ma perché vuoi dire che c'è una gemmina anima gemella una fiamma da qualche parte un'anima fine la vita se ce ne sono non tanto lontano da lì sarà può essere che vedo legata a quello che lei fa tutti i giorni quindi legata al suo lavoro futuro è nel web se le piace se lei veramente con la passione di sì sì bella vedo comunque sì tu ci hai detto gioia che questa è la tua ti piace molto lavoro ma non non ricordati che io non ti sento gioia perché non c'è il microfono non c'è quindi stai parlando ma io non leggo labiale ok è un animo fine gemella quindi se vabbè non è una grande notizia nel senso chiusa una porta si apre un portone questo vale per tutti sempre fatti sempre esatto e gemelle significato le quanti ne ha quante ne ha di anime gemelle 10 di cui 7 in europa l'italia europa sì che poi quando si parla di queste cose sembra che uno deve avere anche molta fortuna cioè uno si riferisce al discorso anime gemelle secondo dati statistici no ma nella realtà quali dati statistici non c'è un bel niente perché le ps non lavorano così cioè se uno nasce in italia e la ps sa che ha una propensione per l'america latina già preparato anime gemelle in l'america latina e 2 3 in europa perché nel caso in cui il viaggio la vita in america latina fallisca in europa c'è qualcuno ma probabilmente in africa in oriente non ce ne sono cioè è un gioco è finto è già per di parte tranne la questione del libero arbitrio è già stato tutto deciso quindi non va a fortuna no perché poi quando c'è una bassa autostima è ma tanto io non avrò quella fortuna non è una questione di fortuna uno può centrare l'obiettivo più alto lavorativo sentimentale sentimentale e la fiamma ovviamente anche quando la fiamma non è per esempio incarnata bene parleremo un po in futuro non oggi che non siamo proprio al top restando sul piano delle anime gemelle anime fini invece di passare la propria vita con un compagno papà no in qualche modo gioia davanti a un lavoro pazzesco e gigantesco ma a quel portone deve chiudere una porta deve attuare un lavoro deve impegnarsi tutti i giorni partendo banalmente dall'onicofagia e quindi combattendola in tutti i modi per dire che non è una cosa così importante però ci sono vernicette ci sono c'è forza di volontà c'è obiettivi da raggiungere questo mese voglio due millimetri di unghie su tutte le cinque dita e uno lo raggiunge con l'obiettivo quando vede che si mette le dita in bocca si blocca è tutto una questione di volontà solo una questione di volontà non dipendono cioè le interferenze arrivano dopo quando la volontà cala quando noi decidiamo che no allora c'è l'interferenza che ride e si infila lì e dice ti prendo l'energia perché ti mangi le unghie è tutta una questione di scelte tutta solo una questione di scelte quindi lei vuole la comfort zone della casa calda che però non è il suo posto però le piace quel posto però non è a casa sua perché di fatto il compagno un papà però non è un papà un compagno però alla stessa malattia dei genitori capisci che c'è bisogno di un cambiamento e cambiamento non arriva perché ne abbiamo fatto la sessione anche la sessione alleggerisce il sacco di patate sulla schiena adesso sacco di patate vuoto ma non è magia non è adesso è tutto facile se uno non si attiva partendo dalle unghie e arrivando se vuole all'anima gemella non si ottiene niente ecco perché mi sono un po scocciato con la sorella consapevole ma dipendente da sostanze da mettere del cinema e ale per magia la sorella risolverà tutti i suoi problemi no la sola ci deve mettere la faccia sbatterci il naso spaccarselo il naso non ha consapevolezza la sorella perché si dedica a stati alterati di coscienza è evidente quindi questa considerazione del mondo così molto mi affido e vediamo come va non va bene non ti affidi e vediamo come va gioia ti affidi togli e agisci perché oggi togliamo tutte le tue entità mentali e mentali collettive ma poi uno deve agire uno sentirà l'assenza dell'interferenza si agisce uno dei peggiori autogol è la la zona di comfort la comfort zone è la peggiore in assoluto con le mille giustificazioni non sono più così giovane ma io dei figli e mai delle responsabilità il baratro fa paura a tutti ma è quello che ti permette di evolverti e di ottenere l'anima gemella ma qualunque età o la ramanzina cosa vuole fare giorno quando il cluster e andiamoci come lo vedi è presente a quelle palline di gomma che rimbalzano tantissimo tutte colorate ma chiama ogni vita è una pallina di quelle se ogni contratto è un colore diverso sulla pallina perché sono di gomma e rimbalzine perché tornano a volte sì allora è come se allora man mano che vengono tolti i contratti quindi diciamo la esperienza è stata consapevolizzata viene tolto un colore dalla pallina e quindi diventa meno meno gommosa quindi più rigida e man mano che vengono tolti i colori diventa sempre meno rimbalzino ok quindi più colori ci sono più rimbalzino e meno colori ci sono meno rimbalzino e cosa ne vuole fare le vuole tenere tutte queste palline tutte queste palline no apre il portale definitivo vediamo come lo apre se lo apre di che dimissione lo apre di tipo con una bacchetta diciamo che prende più o meno tutta la parete laterale del cluster e poi li butta tutti assieme dentro fatto ok mettiamo qua una d'eterno lei non sa creare ha guardato me e poi l'ha creata ok andiamo all'abata stai un po meglio elena sì se può la schiena come l'avata intento come al solito molto freneticamente cerca di cambiare le informazioni cosa fa gioia lo serva poi ha aperto un portale definitivo come l'avete deciso molto volevo dire esatto no no molto attiva molto ha sfogato tutta la sua rabbia sulla sull'avatar e quindi l'ha proprio preso in maniera aggressiva cioè quasi come se fosse un tiro di peso per gli ha lanciato un calcio ha lanciato tutto dentro portale definitivo e poi ha chiuso portale anche quando l'eterno ok l'ha messo ok e ora vediamo qual è la sua situazione le entità mentali collettive o personali sono ancora lì no le entità eteriche che non erano niente di che ma comunque felinoide insomma contava no c'erano edl se ce n'erano tre ci sono ancora impianti specialmente i mentali ok adesso si mette 10 ad eternum 1 per dita delle mani messi ok se ne mette uno nel corpo fisico grande più grande uno nel corpo mentale uno nel corpo emozionale uno nel corpo eterico e uno nel corpo subliminale ok come si creano gli ad eternum lo va a mostrare nel cinema quelli che sono presenti e vediamo chi coglie questa procedura questo insegnamento chi lo ripete da solo due figli della sorella anche anche il compagno attuale dove si riparticano più lentamente il compagno dai tuoi figli e le mettono lo mettono nella mente la testa il compagno attuale lo stomaco l'intestino la sorella nel cuore ok nuova frequenza 89 miliardi nuova percentuale di consapevolezza 192 di sp 63 37 vite precedenti 2000 21 cervello 9.8 ok metta pure anche un ad eternum nella casa e questo è adesso è arrivato il momento di lasciarsi un messaggio allora dice fai un elenco concreto proprio scritto di tutto quello che hai visto nella sessione che ti blocca ok prendi l'obiettivo più semplice quello che vuoi raggiungere ok quindi fai l'elenco di quello che ti blocca diciamo di fianco scrivi la soluzione a te più quella che a te fa più piacere quindi quella che è più verso il tuo benessere ok e fai un ordine di priorità di obiettivi dal più semplice al più complicato ok e poi inizia a mettere in atto le azioni verso queste cose partendo dal passo più semplice che quindi che ne so appunto come ceva lucio per le unghie e inizia a concentrarti magari voglio le unghie più lunghe entro due mesi voglio smettere di mangiare le unghie allora inizio smetto di mangiare quella del pollice sinistro soltanto che sei lì non lo fai e vedrai che in automatico poi non mangerai neanche le altre molto più velocemente ti vedo che è molto utile utilizzare yoga dinamico però all'aperto e poi prova a lanciarti nel lavoro che prova lanciarti di più devi lanciarti proprio c'è abbondanza per tutti quindi fatto che non riesci che non sei in grado che non si guadagna tanto che sono solo blocchi mentali di che ci mettiamo quindi lanciati continua mettere ad eterno ovunque mentre mentre fai lo yoga all'aperto dinamico alza le vibrazioni basta ecco la vedi solo vedo con un vestito bianco molto leggero che danza all'aperto quel bosco la prima era che potesse tutto luminoso e lei danza all'aperto nel bosco abbiamo finito